Ed eccoci di nuovo video Flash Rage in cui parlerò di Untiltown Untiltown è un video game horror esclusiva per PS4 che sicuramente è ovviamente un pre gioco che intratiene tutto, che ha dei buoni jumpscare e che sicuramente mi aspettavo che fossero più lungo di quello che pensavo cioè, a parte la lunghezza che è abbastanza corto nel gioco il video game è veramente bellissimo perché tutte le scelte che si fanno nel game influenzano di tantissimo la storia e sinceramente approvo graficamente, così come le conore sonore, le ambientazioni, la trama, i personaggi e tutto il resto sono ottimi, quindi è un video gioco che secondo me va giocato bene e sinceramente penso che bisogna avere delle buone aspettative per questo gioco ovviamente per chi non ha giocato ma comunque, ma comunque che io dia un 10 su 10 no però come foto vi darei un per 8 e mezzo su 10 ma detto ciò, provatelo a meno a mio avviso e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!